Assessore, questo nuovo volo dall'aeroporto di Pescara per Bucarest e per la Romania rappresenta un'ulteriore occasione di crescita per il movimento turistico della nostra regione, è così? Principalmente un volo business, però è chiaro che dietro al business c'è anche il turismo, nel senso che comunque già solo chi viene qui a Pescara, nel nostro territorio abruzzese, può notarne le bellezze, restare qui, tornarci in vacanza, portare la famiglia, portare i amici, ma è anche se stesso veicolo di turismo, quindi è chiaro che certi sforzi poi devono essere aiutati, io credo che insomma dobbiamo marciare uniti, credere nell'Abruzzo tutti insieme e magari qualche volta con un pizzico di elasticità in più non impedire fatti importanti per la nostra economia. L'occasione della presentazione del nuovo volo per Bucarest e per la Romania rappresenta anche l'opportunità per un primissimo bilancio dell'estate per quanto riguarda l'aeroporto d'Abruzzo, numeri sempre positivi. Diceva lei in conferenza stampa abbiamo più passeggeri dell'aeroporto d'Ancona con la metà dei lavoratori, questo cosa significa? Sì, è proprio vero, abbiamo più del doppio dei passeggeri di Ancona, noi abbiamo su 650 mila, loro stanno poco più di 300 mila, loro hanno un centinaio di dipendenti, ho fatto un incontro tempo fa proprio per saggiare queste potenzialità, ma con un centinaio di dipendenti fanno 300 mila e passa passeggeri. Noi ne facciamo 650 con 48 dipendenti, 49, adesso non vorrei che il dato mi sfuggisse di uno. Questo è un grande fatto positivo perché vuol dire che, come dire, tirando la cinghia al massimo, economizzando al massimo, otteniamo il massimo dei risultati. Avete anche parlato di novità anche dal punto di vista infrastrutturale che ci saranno per l'aeroporto nei prossimi mesi. Sì, prima di tutto perché il centro commerciale finalmente sta finendo, abbiamo dato una bella accelerata ai lavori che erano un po' di rilento e quindi noi nel mese di settembre, fine settembre, speriamo di inaugurare la Business Room, che sarà un centro affari con i servizi adeguati, quindi rent car, parcheggio, aeroplani, collegamenti, per cui un manager, un imprenditore, chiunque potrà venire qui, fare gli incontri di lavoro, d'affari, poi affittare la macchina, riprendere l'aereo, parcheggiare, andare alla stazione in un posto comodo, rapido, con tutti i servizi. Avremo il Comune di Pescara con l'ente manifestazioni che ci ha scritto, optando, opzionando, un box importante per fare un centro di informazione, di promozione delle attività, degli eventi, vendita a biglietti. Abbiamo il Comune di Pescara che sta rifacendo il manto stradale della Tiburtina esterno per quello che gli compete, il Comune di San Giovanni che sta per partire anche lui per fare la sua parte tramite i rapporti con Terna, eccetera. Quindi avremo una Tiburtina, nel giro di un paio di mesi, avremo una Tiburtina nuova qua davanti che ci permetterà rent bike, biciclette, moto, un'agibilità di altro genere. Quindi stiamo cercando di sviluppare l'aeroporto da tutti i lati, non solo gli aeroplani, le tratti, i passeggeri, ma il centro commerciale, i servizi, la comodità, l'assistenza ai passeggeri.